Un caro saluto a tutti dal Parlamento europeo. Come prima cosa voglio ringraziare il collega Ivan David che ha organizzato questo importante incontro sull'agricoltura. In questi anni Davide è stato un ottimo coordinatore in commissione agricoltura per tutto il gruppo identità e democrazia e insieme a Davide abbiamo lavorato molto bene su tutti i dossier che sono passati nella nostra commissione. Pensiamo ad esempio al lunghissimo e importante lavoro che abbiamo fatto sulla nuova PAC 2023-2027 che è giunta al voto finale proprio in questi giorni. La nuova PAC contiene luci ed ombre. Ci sono aspetti positivi che possiamo rivendicare come successi del gruppo ID, come il sostegno alle piccole e medie imprese e ai giovani agricoltori fino ai 40 anni. Ci sono aspetti negativi come il taglio inaccettabile delle risorse economiche per i nostri agricoltori. Pensate che agli agricoltori italiani saranno tagliati 6,2 miliardi di euro per i prossimi 5 anni. Praticamente il 15% di risorse in meno rispetto alla vecchia PAC. E poi c'è la grande incognita delle famose misure green e del fardello economico e burocratico che produrranno. Sulla PAC, sul farm to fork e più in generale su tutto il Green Deal l'Europa sta compiendo degli errori madornali e se non ci sarà un'inversione di marcia, rischiamo veramente di andare a sbattere addosso a un muro. I burocrati europei stanno inseguendo follemente il fanatismo ambientalista della sinistra radical chic che rischia di produrre danni pazzeschi alle nostre imprese e al nostro tessuto socio-economico. L'Europa deve capire che la sostenibilità ambientale non può esistere se prima non viene garantita la sostenibilità economica delle nostre aziende agricole. Se non viene garantito il sostegno al reddito degli agricoltori, le aziende chiuderanno e ci sarà un progressivo abbandono dei campi con conseguenze economiche e ambientali devastanti per i nostri paesi. La nuova PAC ci lancia anche nuove sfide come la denominazione della carne che riguarda milioni di allevatori consumatori. La carne senza carne non esiste, la carne finta è una bestemmia, la carne sintetica fatta in laboratorio al cui interno non c'è un solo milligrammo di carne non può essere chiamata carne. Noi al Parlamento europeo continueremo a combattere per difendere i nostri agricoltori e la nostra terra perché un paese senza agricoltura è un paese senza futuro. Buon lavoro a tutti voi!